Buonasera, benvenuti a Sela TV News e benvenuti nello spazio informazioni. A voi il sommario con le notizie più importanti della giornata. Omicidio di Terno, sequestrati alcuni coltelli che saranno esaminati dai RIS. Aggressione alla stazione Autolinea, arrestato un senegalese. Troppe le vittime nell'Adda, nonostante i divieti di balleazione. Amianto negli orti di Via Goisis, per il comune nessun allarme, ma la chiusura è confermata. Atalanta alla ricerca di un attaccante, nessuna follia, ma occorre esperienza e qualità. Partiamo dalla cronaca e dall'omicidio di Terno d'Isola. Ci sono delle novità, durante questi giorni di indagine sono stati sequestrati dei coltelli che sono stati ritrovati dai carabinieri nella zona del delitto. Non c'è nessuna conferma che ci sia l'arma del delitto, ma saranno inviati ai RIS, ai carabinieri, alla scientifica per gli esami del caso. Indagini in pieno svolgimento, ma ancora nessun indagato per l'omicidio di Sharon Verzeni. La novità riguarda il rinvenimento di numerose armi da taglio trovate nella zona dai carabinieri ed inviate ai RIS per gli esami che potrebbero rilevare la presenza di eventuali tracce di sangue compatibili con quelle della vittima. Dalle telecamere pubbliche e private, la certezza che quella notte almeno 10 persone siano transitate a piedi o in bici nella zona vicino al delitto. Gli inquirenti le stanno rintracciando, pur escluse dalla possibilità di coincidere con l'assassino, potrebbero fornire preziosi dettagli per le ricerche dell'aggressore. In più, gli automezzi, uno dei quali, secondo la ricostruzione di una donna sveglia a quell'ora, avrebbe sgommato sonoramente allontanandosi a tutta velocità. Per quanto riguarda il garage messo sotto sigiglia a pochi metri dal punto dove è stata ritrovata in fin di vita la 33enne, ancora non ci sono conferme che riguardi l'indagine in corso, o piuttosto, incidentalmente, sia finito sotto sequestro uno spazio dove qualcuno soggiornava abusivamente. Infine, una certezza. La violenza e la profondità delle ferite di tre dei quattro colpi inferti lascia intendere che ci fosse una chiara e determinata voglia di colpire Sharon, un elemento in più per le indagini che si stanno rivelando molto difficili e complicate. E nella notte del 4 agosto scorso, presso la stazione Autoline, un'aggressione nel corso della quale un cittadino marocchino di 23 anni è stato a soccorso e trasportato in codice rosso al Papa Giovanni, ricoverato in terapia intensiva, ferite multiple alla gola, torace e polso causate da un'arma di taglio. E oggi il fermo ha operato dalla squadra mobile della polizia un cittadino senegalese, 29 anni, già condannato in passato per rapina e ritenuto responsabile dell'accoltellamento. Il soggetto, attualmente nel carcere di Bergamo, in attesa delle disposizioni del giudice, durante l'aggressione si era ferito alla mano sinistra, lasciando numerose tracce di sangue lungo la via di fuga, che hanno permesso agli investigatori di rintracciarlo a Colognola ed arrestarlo. Parliamo delle vittime nei laghi, nei fiumi, soprattutto nell'Adda, zona Cassano, già la seconda in pochi giorni, nonostante ci sia un chiaro divieto di balneazione. Continuano tristemente le morti nei fiumi bergamaschi. È di domenica la notizia del giovane egiziano 24enne che, dopo essersi tuffato nell'Adda alla ricerca di un po' di refrigerio, nella zona tra Faragera d'Adda e Cassano d'Adda, è stato trascinato via dalla forte corrente. Un tuffo, che gli ha costato la vita, si tratta della seconda vittima in soli 26 giorni della potenza del fiume Adda, un corso d'acqua tanto maestoso quanto insidioso. Lo scorso 9 luglio, infatti, nelle stesse acque si tuffava un 25enne di Treviglio, anch'esso di origine egiziana, probabilmente con l'intento di recuperare un pallone finito in acqua. Anche per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare, la forza della corrente ha avuto la meglio. Eppure, i cartelli ad indicare il divieto di balneazione e le transenne non mancano hanno dichiarato i vigili del comune di Cassano d'Adda. A seguito degli incidenti occorsi, inoltre, il sindaco di Cassano d'Adda, Fabio Colombo, ha diramato un'ordinanza, la 171 del 16 luglio 2024, che stabilisce il divieto di balneazione permanente sul territorio comunale e una sanzione di 500 euro per i trasgressori. Un provvedimento a tutela della sicurezza di tutti che, purtroppo, però, non sempre viene rispettato. I più temerari, purtroppo, non si fermano e, in barba alle regole, pur di trovare sollievo dalla calore estiva, si immergono in acqua, mettendo a rischio la propria vita. Torniamo a Bergamo, confermata la presenza di alcune particelle di amianto negli orti di via Goisis, che l'amministrazione ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi. Da Palafrizzoni si sottolinea che la presenza di sei frammenti di amianto non volatile ma trovati nel terreno e da considerare modesta, anche se sufficiente a procedere nel procedere alla chiusura temporanea di questi orti che sono dati in affitto ai cittadini che vogliono coltivare qualche ortaggio come passione. La parola OLA passerà ad ATS e all'ARPA che dovranno stabilire come procedere per un'eventuale bonifica al termine della quale gli orti saranno riaperti. Chiaramente semina e soprattutto il raccolto di questo periodo andranno completamente distrutti. È morto in un incidente stradale a Isernia in Molisi il chirurgo oncologo Cristiano Uscher, bergamasco di origine ma per anni in servizio a Sant'Orsola, all'ospedale di Esine nel Bresciano ed in seguito primario al Sampio di Benevento. Uscher, che ha una figlia oncologa che lavora a Brescia, è deceduto ieri sera dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso di Isernia. Secondo le prime ricostruzioni, l'oncologo sarebbe finito fuori strada con la sua automobile senza il coinvolgimento di altri mezzi. Passiamo all'indagine di Conf Commercio di Bergamo che riguarda le chiusure degli esercizi commerciali nei giorni prossimi al ferragosto. Il picco si raggiungerà appunto dal 15 al 18, una media di chiusura di una settimana per circa la metà dei commercianti e per il 40% di bar e ristoranti. Chiaramente le chiusure sono concentrate in città e nelle zone di provincia non turistiche, tutto aperto nelle valli, nei laghi e quasi tutti aperti in città alta. Nessuna serrata generale quindi come avveniva negli anni scorsi e chiusure programmate anche in funzione delle ferie di chi in questi esercizi commerciali lavora. E ora ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti e ci ritroveremo con la ricerca non spasmodica dell'Atalanta di attaccanti. Ben ritrovati con le notizie di Seila TV News, parliamo di Atalanta. L'infortunio di Scamacca chiaramente ha rialzato il mercato, il calciomercato un po' assopito dei nerazzurri. Bisogna trovare un attaccante, lo deve essere bravo e pronto subito. Vediamo chi sono i nomi destinati a diventare nerazzurri. Atalanta-Bergamasca calcio, cercasi centra avanti. È l'annuncio che compare davanti agli occhi dei dirigenti nerazzurri ma anche ai tifosi, gli stessi che hanno dedicato a Scamacca lo striscione di incoraggiamento esposto fuori dalla nord. Il classe 99 romano ne avrà bisogno per risollevarsi dai sei mesi che lo separano dal ritorno in campo. Tanti i nomi, alcuni puramente di fantasia come Lukaku, altri onerosi e improbabili come Abram che ha un obolo annuale di 5 milioncini di euro decisamente sproporzionati allo standard di stipendi stile percassi. Premesso che affidarsi ai falsi nove Zaniolo e De Ketelare con Luckman che gira intorno e Cube Miners che detta la regia sarà la prima scelta del mister, è necessario correre ai ripari. Nomi reali sono Pinamonti dal Sassuolo, Beto dall'Everton, lo svincolato Anthony Martial o su tutti Simeoni del Napoli. 29 anni, conosce bene la Serie A e la porta alla vede. Un blitz bergamasco potrebbe chiudere l'affare con un prestito e il diritto di riscatto. Il Napoli punta alla cessione definitiva e questa volta ha il coltello dalla parte del manico. C'è una definitiva ultimora anche che riguarda l'Atalanta, si saluta l'Atalanta bergamasca a calcio, saluta Hans Atteborg. Dopo sette anni e mezzo nei colori nerazzurri andrà a giocare nella Liga 1 di francese, nel Rennes, prestito, anzi in forma definitiva, quindi è stato venduto in modo definitivo e ha giocato 245 partite con i colori nerazzurri, direi anche con Gloria e vincendo anche lui, vincendo l'Europa League. Noi andiamo a vedere ora cosa succederà nei cieli di Bergamo. Trevi Meteo Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di mercoledì soleggiata in Lombardia, ma l'alta pressione tende ad indebolirsi per il passaggio di infiltrazioni umide. Fenomeni infatti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e poi tra tardo pomeriggio e sera anche sulle zone pianeggianti. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto che sarà instabile soprattutto nella seconda parte della giornata, con fenomeni da prima sui monti e poi anche in pianura, fenomeni che a tratti potrebbero risultare anche di forte intensità. Temperature massime fino ai 33-34 gradi. Poi dando uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia per la giornata di giovedì, torna a rinforzarsi l'alta pressione con ampi spazi soleggiati. E infine per quanto riguarda le prossime giornate, il contesto sarà stabile ed assolato con temperature massime che torneranno ad aumentare, specie in vista del weekend col caldo che tornerà a farsi sentire. Per dettagli c'è il sito e l'app di Trevi Meteo. C'è un'ulteriore ultimora, in questo caso molto più tragica. Ultimora è giunta appunto in redazione. Oggi pomeriggio in via San Sebastiano è morto un uomo di 57 anni. Percorreva con la mountain bike e i colli di Città Alta, quando improvvisamente, probabilmente per un malore, si è perso il controllo della bicicletta ed è rovinato a terra. Sono giunti sul posto i soccorritori del 118, la polizia di Stato hanno potuto solamente constatare il decesso. Non ci sono altre nuove notizie, voi scrivete a redazione chiocciola sedatv.tv Una buona serata a tutti. Grazie a tutti.